Ha terminato la corsa contro un muro mentre percorreva la strada provinciale 75 che conduce da Ravello a Castiglione facendo un volo di oltre 20 metri. È finito nel vuoto e nell'impatto ha perso la vita l'autista. A circa 30 anni l'unico a bordo dell'autobus turistico era il figlio del titolare di una nota società di trasporto turistico di Agerola. Il suo corpo è stato recuperato nel letto del torrente Dragone da un elicottero del 118. Il pullman in pratica ha distrutto completamente il parapetto e si è accartocciato contro un'abitazione sottostante. Sul posto i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di Amalfia, gli ordini del capitano Umberto D'Angelo Antonio, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Gli è accaduto in tarda mattinata. Da quanto si è preso l'autobus stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione in prossimità di un tornante, probabilmente per il fondo stradale reso viscito dalla pioggia o per un guasto meccanico ai freni, è precipitato sfondando il parapetto e facendo un volo di una ventina di metri. Non è stato facile soccorrere l'uomo che per le gravi ferite riportate è morto. Sul posto il magistrato di turno.